Salve a tutti sono Ted, io sono Bardo e oggi siamo su Fubetia 8bit Prima di iniziare volevamo dirvi che la serie cambierà forma Da oggi in poi invece di andare in ordine cronologico parleremo di ciò che ci interessa veramente Quindi finalmente dopo miliardi di settimane parliamo di Batman Quando avevo 8 anni Bruce Wayne uscendo dal cinema assistenti 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 Assis Assicosa In questo video faremo una piccola introduzione al personaggio così da approfondirlo nelle prossime puntate Vai Fai con me Io me ne vado Cerca Io me ne vado Quando avevo 8 anni Bruce Wayne vide con i propri occhi l'omicidio dei suoi genitori all'uscita dal cinema Da quel momento giurò di estirpare la criminalità da Gotham Rimasi in affidamento al suo maggiordomo Alfred Pelleworth E una volta maggiorebbe si ritirò in Tibet per imparare le arti marziali Tornato a Gotham decise di vestire i panni di Batman e combattere i criminali Così da tutti i punti di me ancora quando aveva Vabbè Eh no perché prima c'era Quindi da Ted E Pardo E' tutto Ci vediamo la prossima settimana Con gli approfondimenti su Batman E' tutto